Lei ha aderito dall'inizio ad Alice? Alice mi ha colpito sin da subito, ma io sono socio effettivo ma non fondatore. Nel senso che ad oggi facciamo parte della schiera dei 40 soci effettivi, ma siamo entrati in un secondo momento, pochi mesi dopo la fondazione, grazie a qualche amico in comune che è presente in Alice. C'è sempre stata una stima e un affetto particolare con il presidente Guido Grimaldi e con tutta la famiglia che ci ha spinto ad avere fiducia verso questa associazione che effettivamente ha prodotto i risultati aspettati. Quanto conta per lei il profilo etico che anima Alice, cioè il fatto di eliminare in modo parziale il trasporto su gomma, trasferendolo via mare e sulle ferrovie per salvaguardare l'ambiente? È una politica pienamente d'accordo con la nostra politica aziendale. Noi da sempre abbiamo investito in innovazione. Già da anni adottiamo nelle nostre sedi diverse tecnologie per la sostenibilità ambientale. Già sviluppiamo alcuni traffici con l'intermodalità. Abbiamo aderito al progetto LNG, abbiamo aderito al progetto azoto liquido per il raffreddamento della cella. Quindi siamo in perfetta simbiosi con quelli che sono gli obiettivi di sviluppo per l'ecosostenibilità e per l'intermodalità. Il Presidente sa bene su cosa concentrarsi e di comune accordo raggiungeremo di sicuro risultati migliori. Grazie. 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 Grazie.